I criminali non stanno qua dentro, i criminali stanno dall'altra parte Non c'era più pezzi di merda qua dentro Ma che uomo sei? Ma vedi che sta passando l'anno? Ma sei un uomo? Sei un uomo sei? E via me! Hai trovato tutti i denti? Bravo, sei forte, sei fortissimo Hai visto quante delinquenti ha trovato qui dentro? Abbiamo chiamato l'ambulanza Sta male! 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 Che cosa gli raccontate quando mi vado a casa? Che gli raccontate? Gli avete buttato fuori da fuori a questo? Ma che gli dite ai figli voi? Io la sera quando vado a casa al di più gli posso dire che sono una persona onesta? Ma che gli dite a quello che dipendete di questi? E' un fattore proprio personale ma ci riuscite a difendere questa gente? Ci riuscite a difendere una persona che dice vabbè tanto che sta andando a menà come se è una cosa normale, come se è una cosa tranquilla normale? Ci riuscite? C'è una manosa coscienza, ci riuscite a metterla? E' ragione un attimo con il cervello vostro? Ancora è pato di casa, no? O Stato di casa! Personalmente proprio, eh? Ma ce la fate? Andate a dormire tranquilli stasera con due ragazzini in mezzo alla strada? Per colpa di chi? Per colpa di O Stato, eh? No per colpa della signora, per colpa di O Stato! questo ha pagato i testi, non esiste, ammazzamola, buttamola in strada stanno a fare quelle poveri, stanno a fare quelle poveri tra poveri erano ordine di asparaci, io sono povero, sono disoccupato, non c'è niente ammazzateci, ammazzateci ma almeno che riscrivete il problema, i nazisti erano più umani sotto il suo punto di vista e poi il discorso che facevano per difendersi era quello ma hanno dato un ordine, ci ho avuto un ordine però hanno picchiato uguale in Nuremberg volete mandare via la gente? Dategli un'altra possibilità, un'altra casa dove cazzo vanno questi? Dove? a 1 a 1, le faccio a bussare la cura a postura a 1 a 1 a 1 a 1 chiamatela l'ambulanza, sto male, chiamatela il commessore, chiama sta cazzo l'ambulanza ho chiamatela l'ambulanza ma ha fatto il certificato? no, mo gli fanno fare una relazione ci vuole dire che stava bene è andrò e anche a 2 a 1 a 1 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 3 a 3 a 1 a 2 a 3 Non vanno entrare. Intenzione, eh? Non si.